L'emozione unica che poi diventa festa quando Brescia grida gol Siamo qui con Chiara Guerini, capitano della squadra e autrice della prima rete della partita e anche del nuovo Brescia Calcio Femminile. Qual è stata l'emozione nel segnare? Ho un'emozione fortissima, non me l'aspettavo e realizzare il primo gol da capitano è bellissimo, non ci sono parole per descriverlo e portando a casa anche questi tre punti l'unica cosa che posso dire è che dobbiamo continuare a lavorare, testa bassa e portare avanti tutto quello che stiamo facendo in allenamento. Chiara, qual era il clima nello spogliato io prima della partita? Allora, ti dico che era tra agitazione e voglia di fare, agitazione perché prima partita, derby, per alcune le eccellenze erano una nuova categoria ma d'altra parte avevamo una grinta e una voglia di fare che penso si sia vista in campo. Nonostante sia stato un po' difficoltoso all'inizio entrare nel gioco però penso che si sia visto tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni e in questo mese.